Il premio per il miglior attore protagonista va a Elio Germano, per il film Volevo Nascondermi. Quarto David di Donatello, alla sua settima candidatura per Elio Germano. Grazie di cuore, io volevo condividerlo prima con questi splendidi colleghi della Cinquina, è veramente imbarazzante essere insieme a loro, spero di esserlo in futuro tante altre volte. Ringrazio Giorgio Di Ritti, perché è lui che ci ha invitato a questa avventura magnifica. Volevo ringraziare tutti quelli che mi hanno aiutato a costruire questo personaggio, quindi dalle persone che ho intervistato su, ai dialogue coach di dialetto locale e di svizzero tedesco, a quelli che mi hanno insegnato a scolpire, a dipingere, a fare come faceva Antonio Ligobue, a Matteo Cocco, quindi la sua meravigliosa squadra, Carlo il Fonico, Ursula che ha fatto i costumi, Lorenzo Tamburini con Valtare e Martina che hanno fatto il prostetico, e Aldo che ha fatto il design di questi capelli meravigliosi. Insomma, a tutte le lavoratrici e i lavoratori dello spettacolo e a tutti gli artisti, soprattutto quelli dimenticati. Grazie. Grazie, Eli. Anche questa vi ricordo, no? Grazie.